A piccoli passi la primavera comincia a farsi avanti e Pesaro si prepara a piccoli e grandi cantieri per allestire la città alla bella stagione. Lavori che di fatto sono già cominciati in uno dei luoghi da cartolina della città, quello fra Palla di Pomodoro e Moletto dove si sta provvedendo alla sostituzione delle balaustre ammalorate da salsedine e intemperie. È un'operazione di restyling importante che interesserà le balaustre nella zona di Piazza della Libertà, sono 350 metri, sono partiti i lavori proprio la scorsa settimana che prevedono la sostituzione di fatto con un trattamento a base di polimeri che le renderà nuove, le renderà meno soggette a eventi corrosivi essendo comunque quella una zona molto esposta alle interperie, alla salsedine e quindi al rischio che possano verificarsi dei fenomeni di ruggine. Però andremo a fare un trattamento importante come non si era mai fatto prima che dovrebbe dare, mettere, diciamo, nelle condizioni di avere un salotto nella zona mare che sia ancora più pulito e più ordinato. Lo stesso tipo di interventi verrà realizzato anche, un intervento simile si realizzerà anche sui bidoni, sui cassonetti di marche multiservizi che verranno, su cui la società si è già attivata per una pulizia, per un riordino. Un primo lavoro fra tanti altri che si stanno organizzando anche di concerto con l'Apa Hotels in un periodo di sopralluoghi fra comune e albergatori per gli accorgimenti da portare al lungomare in vista della Pasqua e di un'estate che conta di mettersi definitivamente la pandemia alle spalle. Grandi manovre ad esempio a Villa Marina dove si conta di completare e riqualificare i 4.000 metri quadrati di parcheggio gratuito entro il mese di giugno con 165 posti auto e area di sosta anche per bici e scooter. Ma a Ponente si preparano anche altre novità. Un intervento importante anche nella zona, nell'unico spazio verde rimasto di Viale Trieste, in fondo nella zona, diciamo, tra Bagnetino e il Prima Porto, nella quale grazie anche al contributo importante di Croce Rossa andremo a realizzare un'area da calisthenics e quindi una struttura sportiva all'area aperta in un luogo strategico della città, bellissimo e quindi quello è un primo stralcio di un intervento che poi come volontà dell'amministrazione c'è anche di riqualificare anche tutto quel passaggio pedonale, l'area verde dietro, nella parte dietro insomma rispetto a quella nella quale interveniamo già subito fra qualche settimana. Dal mare al centro sta per iniziare forse il cantiere più delicato, quello del restyling del selciato e della pavimentazione di piazza del popolo, dopo le prime indagini archeologiche ultimi giorni per l'assegnazione dei lavori alle ditte qualificate al restauro conservativo. Sono già state effettuate le operazioni, il georadar così come condiviso insieme alla sovrintendenza e abbiamo stato fatto l'avviso pubblico per l'assegnazione dei lavori e vedremo ecco di cercare di andare a intervenire sulla piazza che è il luogo sicuramente simbolo più importante della città cercando di creare meno disagi possibile garantendo anche durante tutta la stagione estiva il naturale svolgimento degli eventi e delle manifestazioni, quindi sarà un lavoro sicuramente delicato che andremo probabilmente a dividere in tre stralci, questo proprio in modo tale da far sì che la piazza resti sempre accessibile e fruibile, considerando che ci sono attività, che ci sono prefettura, questura, quindi è un luogo importante su cui occorre intervenire con grande attenzione proprio per far sì che il cantiere duri meno possibile, crea meno disagi possibili e possa dare quel lustro alla città così come sarà una piazza riqualificata.